Dopo diversi rinvii si è trovata la quadra sulla legge relativa ai funghi. Rossi lei ha portato diverse modifiche, ma che cosa è stato stabilito nel dettaglio? Finalmente è stata approvata questa legge che finalmente dà dignità alle zone montane dove naturalmente si raccolgono i funghi. Tutti i proventi dei tesserini di raccolta che prima andavano alla regione saranno ridistribuite ai comuni montani a seconda della loro superficie boschiva. Inoltre viene introdotto un ticket giornaliero settimanale per i non residenti in regione. Anche su questo abbiamo trovato una quadra, come avviene tra l'altro in tante altre regioni italiane e anche a noi confinanti. Invece il corso formativo è stato riconfermato? Sì, è stato riconfermato perché ho creduto che fosse appunto importante e ho apposto questo emendamento che è stato chiaramente condiviso insieme agli altri della seconda commissione che ringrazio. È importante perché è importante la conoscenza dei funghi perché purtroppo tanti avvelenamenti avvengono perché la gente non conosce i funghi. Quindi un corso di formazione per andare a cercare i funghi è più che necessario. Quindi è stato rintrodotto e credo che sia una cosa positiva, tra l'altro condivisa anche dall'opposizione. La legge quando entrerà in vigore? La legge entrerà in vigore il 1 gennaio del 2023 in modo che le istituzioni possano adeguarsi, i cittadini possano essere informati al meglio. Vorrei ringraziare la Giunta regionale, il Presidente, per aver redatto questa legge che poi all'interno della seconda commissione ho cercato di emendare con questi nuovi provvedimenti. Grazie a tutti.